L'invito di Gesù è quello di superare i nostri limiti. Non basta rispettare i dieci comandamenti e sentirci a posto. Un vero cristiano deve fare molto di più. Deve andare oltre ciò che è umano verso ciò che è divino. Qual è la cosa più divina che l'uomo possiede in questa vita? L'amore. Chi ama farà sempre più di quanto prescritto. Sulla bilancia della nostra vita peserà di più la misericordia, molto di più della giustizia umana. Siamo invitati dunque ad essere santi come lo è il Padre Celeste. Come mettiamo in pratica questa santità che ci viene chiesta? Attraverso la misericordia verso chi sbaglia nei nostri confronti. Attraverso la pazienza per chi è debole e cade sempre negli stessi errori. Attraverso la parola che dona speranza, che detta chi ha perso la strada della vita vera. Si possono trovare tantissimi modi per praticare l'amore nella vita quotidiana. Bisogna solo avere la creatività di viverla al 100%. Qual è il tuo atteggiamento verso le debolezze degli altri? Come vivi la misericordia nella tua vita quotidiana? Qual è la tua reazione davanti alle tue debolezze?